Buongiorno a tutti, il 2018 è stato contraddistinto da prezzi alternanti dei Risoni e da una indecisione nel mese di dicembre da parte della Commissione per quanto riguarda la clausola di salvaguardia. Il 2019 quindi siamo in attesa di ricevere questa buona notizia e una novità è quella relativa alla relazione di fine anno che vi presenteremo in un formato più leggibile insieme al prossimo resicoltore, mentre la formulazione completa la troverete sul sito dell'ente. Auguro a tutti voi un buon Natale e un felice anno.